A pianto in aula Gaetano Barbuto Ferraiolo ascoltando le parole del giudice che assolveva i suoi carnefici. Il verdetto durante l'udienza preliminare di Napoli Nord da parte di Daniele Grunieri che libera i tre imputati. La vicenda risale al 20 settembre del 2020 quando durante una lite per motivi di traffico il giovane di Sant'Antimo venne colpito alle gambe. In corso Europa si è scatenò l'inferno. Gaetano venne prima colpito alla testa con il calcio di una pistola e poi alle gambe ferito dalla stessa arma. A causa di una successiva gravissima infezione gli furono amputati entrambi gli arti, oggi è costretto su una sedia a rotelle. I tre, Antonio Sgamato di Sant'Antimo, Raffaele Chiacchio di Grumonevano e Antimo Belardo di Sant'Antimo, furono arrestati un mese dopo il fatto per tentato omicidio, quindi rimessi in libertà e rinviati a giudizio solo per il reato di lesioni gravissime. Grande delusione per Gaetano che con la mamma e le zie ha atteso la sentenza ad Aversa, sede del Tribunale di Napoli Nord. Mi hanno amputato le gambe una seconda volta, ha dichiarato dopo il verdetto la giovane vittima. Alla fine nessuno pagherà per quello che ho subito, non ci sono colpevoli, sono sconvolto. Per il legale del giovane Carlo Destavola ci sarebbero tutti gli elementi perché la procura faccia appello. Nell'udienza del 10 marzo scorso c'era stato all'esterno del Tribunale Aversano un flash mob per chiedere giustizia per Gaetano.